sfide estreme professionisti appassionati e i migliori materiali questo è il mondo di sicans extreme painting benvenuti nella città di torino fin dal 1663 the number six è un punto di riferimento architettonico nel centro storico ed è pronto per la manutenzione restaurare un gioiello storico come questo richiede regole ben precise quindi per i decoratori sarà una bella sfida l'imprenditore ha ordinato esplicitamente che i residenti non devono essere disturbati con brutti ponteggi e il lavoro deve essere fatto in un tempo estremamente breve il prodotto garantisce un'eccellente protezione delle murature risulta poco sensibile alle condizioni meteo e del supporto a una texture opaca e consente di valorizzare l'aspetto estetico delle facciate per ripristinare l'edificio nella sua autentica bellezza devono essere applicate tecniche speciali di pittura l'utilizzo di un rullo è fuori questione questo lavoro può essere fatto solo con un pennello e richiede la massima precisione e concentrazione a